Buonasera a tutti da Mario Macantelli, oggi torno su un argomento che riguarda il mondo swap. La questione è comunque di interesse generale, parlo del commercio al dettaglio su aree pubbliche, quindi mercati rionali, fieri e simili. Già ho affrontato il discorso in altre occasioni e in modo un po' più approfondito, potete trovare sul canale youtube di Simone Chiarelli altri miei commenti sulla questione. Per il Tg Omiavis di oggi mi limito a citare le ultime tre pronunce che ho trovato sull'argomento. Diciamo che in estrema sintesi i principi generali sulla tutela della concorrenza devono essere applicati anche alle concessioni del commercio sulla repubblica. Questo è l'assunto che possiamo estrapolare dalle tre sentenze in commento odierno. Mi riferisco al Tarlazio, sentenze 530, 537 e 539 del 18 gennaio 2022, scaricabili dal sito della giustizia amministrativa. Per fare una ricostruzione sintetica sull'argomento possiamo partire dal decreto legislativo 59 e 2010 che dà attuazione in Italia alla cosiddetta direttiva Bolkestein la 123 2006 in materia di tutela della concorrenza e accesso al mercato. Dapprima anche il settore del commercio sulla repubblica era nel campo applicativo di questa normativa. Dopo varie vicende è stato tirato fuori. Ad oggi per legge il commercio sulla repubblica non è soggetto all'applicazione dei principi della direttiva Bolkestein e in più è stato previsto a livello nazionale un preciso regime giuridico sui rinnovi taciti, diciamo così, delle concessioni di solo pubblico al fine del suo esercizio. Ecco, la giurisprudenza amministrativa invece sta spingendo in senso opposto. È necessario che, detto proprio in via sintetica, anche il commercio su a repubbliche rientri nel campo applicativo della direttiva. Inoltre la PA e la pubblica amministrazione è tenuta a disapplicare la normativa statale, diciamo italiana, in contrasto con i principi della normativa citata. La PA deve disapplicare la norma senza attendere l'espressione di un giudice sul caso completo, quindi in via diretta. Che cosa significa stare fuori o dentro la Bolkestein relativamente alle concessioni? Se siamo fuori dalla Bolkestein, le concessioni per il suolo pubblico praticamente diventano perpetue. Concessioni dodicennali, sì, ma che si rinnovano in modo tacito, previa mera verifica dei requisiti soggettivi in capo all'esercente, requisiti morali, professionali, eccetera. Quindi si potrebbe assistere a delle rendite di posizione in capo all'operatore già concessionario. Essere dentro la Bolkestein invece significa concessioni con durata commisurata agli investimenti, scadenze certe e procedure competitive per la riassegnazione delle stesse senza attribuire vantaggi all'operatore uscente. Le sentenze citate che cosa fanno in pratica? Mutuano quei principi espressi dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sulle concessioni balneari, stabilimenti balneari, e le trattano tal quali anche alle concessioni per il commercio su area pubblica. Vi lascio qua dei link in questo lavoro che trovate poi in allegato al video per andare a approfondire la questione dell'adunanza plenaria. Il Tar Lazio aderisce completamente all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, tanto da prevedere anche lo stesso regime transitorio delle concessioni. Regime transitorio che serve all'amministrazione comunale per mettere su le procedure, dare seguito e trovare i nuovi concessionari. Quindi le concessioni del Comune di Roma, relativamente al commercio su area pubblica, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Naturalmente l'auspicio è che nel frattempo intervenga il legislatore nazionale per fare luce in materia e magari trovare un regime transitorio applicabile per legge e non per sentenza. Vi saluto, ci vediamo alla prossima!